ciao ragazzi bentornati sul canale oggi volevo fare un video diverso da solito volevo farvi vedere praticamente dirvi dopo un tot di tempo come i prodotti che ho installato che siano cinesi o non cinesi praticamente praticamente come sono dopo più o meno un anno dal loro utilizzo cominciamo a partire dagli interni il principio la prima cosa che ho messo una delle prime cose che ho messo è stato che l'abbiamo parlato già sul gruppo varie volte eccetera il manometro manometro per la temperatura dell'acqua che fa oltre perché si collega alla presa obdi però come stavamo parlando sul gruppo questo manometro legge i parametri che gli dà la centralina però non sempre questi prodotti qui sono compatibili quindi non è detto che leggano perfettamente i parametri per far sì che se uno vuole avere i parametri corretti deve installare il bulbo col manometro adeguato che è sicuro preciso in poche parole però nell'insieme io mi sto trovando bene funziona ancora legge la temperatura dell'acqua vedo che le temperature che avevo fatto esaminare da un meccanico con il test dell'acqua eccetera praticamente cambiava di 3 4 gradi niente di che però ripeto magari c'è un giorno che legge 50 ma in realtà sono 80 purtroppo questo non lo sappiamo perché appunto lui interpreta quello che gli viene dato alla centralina però ve lo consiglio lo stesso non costa tantissimo altro prodotto che ho messo è la questo cruscottino qua porta oggetti che io avevo già modificato togliendo la parte di supporto del telefono poi di recente non so più o meno da quanto tempo ho messo la visiera per la radio oltre che la pellicola protettiva e anche qua mi sto trovando bene non si stacca passato l'estate calda e quindi funziona bene fa ombra che deve fare anche se non è che dobbiamo guardare la televisione o video eccetera supporto del telefono questo è un supporto a peso mettendo il telefono si vanno a chiudere l'ho modificato perché non esce così ho praticamente avvitato la sfera per poi agganciarlo in questa maniera è soltanto un supporto semplice però pochi pochi soldi ho speso in questo senso se si riesce a leggere la marca eccola qua però anche questo devo dire che in fuoristrada soprattutto funziona bene poi ho qua in precedenza avevo montato il cb che adesso ho spostato praticamente qua ho fatto una staffa come potete vedere semplice avvitato dietro passano i cavi e non mi dà fastidio tanto quello spazio qua l'ho praticamente ritrovato con la console centrale che molti di voi hanno già messo e alla fine quello spazio che utilizzavo lì adesso lo sto praticamente riprendendo qua insomma però qua posso dirvi che è più comodo non da fastidio col cambio eccetera eccetera la presa usb si infila senza problemi ovvio se fosse più lunga dovrei abbassare piegare di più la staffetta la staffa che ho fatto in metallo e anche questo midland mini kit completo che avevo preso su top gear che vi ricordo che c'è sempre lo sconto sul sito della top gear trovate sempre il codice sul su gruppo e funziona molto bene la dash cam della 70 mai pro che è comodissima e comodissima se vi piace filmare quando uscite perché perché questa qua oltre che fare la macchina spenta viene andati dopo tre quattro minuti entra dentro in modalità parcheggio se qualcuno vi tocca la macchina questo inizio a registrare sì è vero regista solo frontalmente infatti ne ho messa una anche al posteriore stessa camera fa la stessa cosa sono identiche la cosa interessante di questa dash cam che secondo me è una delle cose che mi ha fatto apprezzare di più nel tempo e che questa ovviamente mentre voi girate film però non fa quei brevi video di pochi secondi questa filma un po di più quindi se voi stavate girando da qualche parte non avevate la vostra gopro action cam portata di mano sapete che qua comunque riuscite a prendere circa qua dovrebbe essere una specie di 2k però in full hd si vede già bene potete riprendere appunto tramite la micro sd che interna le vostre riprese senza problemi un altro accessorio che ho messo all'inizio è stato il porta oggetti porta oggetti che il cinese ha pagato 20 euro e ragazzi ancora qui funziona funziona bene fa quello che deve fare cioè è qua non posso lamentarmi perché funziona bene davvero l'unica cosa che posso dire che purtroppo essendo un portano un bracciolo fisso non con sedile quindi più voi dovete andare avanti con sedile meno avrete spazio per appoggiare ovviamente vi ricordo che in vendita c'è l'originale che costa se non sbagli sui 150 euro ma va praticato il foro dentro sedile proprio anche al tessuto del sedile lasciando stare i coprisedili qua però dovete forare per arrivare i ganci e non è molto semplicissimo l'installazione anche perché se sbagliate a bucare dopo un po comincerà a aprirsi sempre di più il tessuto che come ben sapete non è che sia di grande qualità però questo ovvia al mio problema giusto per quell'appoggio che devo fare per quando guido su tratti lunghi altro prodotto che ne sono soddisfatto sono i tappetini della carbox che sono questi qua in plastica non questi qua sono gli originali questi qua della carbox sono un po più aperti più come dire rialzati sui bordi quindi diciamo che se si sporca c'è acqua come ultimamente con la neve funzionano bene questo tappetino originale fa sì che non che abbiate grip quindi che non scivolate quello sotto è per contenere diciamo di più sporco liquidi eccetera quindi consigliato stessa parte l'ho fatto anche nella parte appunto destra altro oggetto ripeto non sempre questi prodotti sono e che servono poche parole non è che siano appunto prodotti che per il fuoristrada vanno a cambiare qualcosa ma vanno a cambiare per chi piace l'estetica come i sedili che ho fatto che ho messo che ho messo anche dei video dell'installazione della foder art che sono copri sedili foderine poche parole si infilano e dopo tutto questo tempo non si sono rovinati sono ancora intatti e posso assicurare che comunque sali scendi sali scendi di solito cioè di solito mi sarei aspettato che ci sarebbero stati già dei problemi su questi lati qua anche perché non essendo vera pelle credevo già che a breve si sarebbero già subito rovinati unica cosa nota un po queste causa mia e che sono sporchevoli nel senso che come me magari fate fuori strada eccetera eccetera avete un po di palta sali scendi poi sono chiari si sporcano subito però ovviato comprando un prodotto per questi tipi di pelli qua finte pelli e quindi in un attimo si pulisce poi vabbè maniglie copri maniglione e praticamente l'altra maniglia è praticamente che fa a mano giorgimi che lo trovate su instagram sono sempre esteticamente un discorso estetico sono vera pelle quindi nulla da dire sono sia belle esteticamente e ovviamente appunto essendo vera belle sono proprio belli anche qua nulla da dire poi questi qua vabbè sono degli interruttori che questo è stato acquistato su amazon questo era stato preso dal taiwan tramite qualcuno ai tempi indietro che ne aveva presi un po costava una fucilata perché comunque c'è sul disegno del gimni e vabbè comunque funzionano perfettamente altra cosa degli interni passando il posteriore e il tappetino originale dietro io avendo abbassato semplicemente i sedili e ho messo su appunto questa copertura qua che è davvero non comoda di più è comodissima per quale motivo perché se voi viaggiate come me così non guardate lo zaino gigante il borsone se adesso devo portare delle persone dietro prendo questo lo arrotolo lo metto dietro sedili chiudo il portellone quando poi lo vado a rimettere giù rimane sempre così non prende pieghe perché fatto tipo una specie di silicone non so che bene che materiale come i sedili davanti quindi anche lì c'è sedili scusate i tappetini davanti consigliatissimo questo qua originale pagato 60 euro cioè quanto costerebbe dal concessionario i tappetini dietro che sono sempre gli originali poi qua abbiamo i gancetti che vi dico la verità avrò usato forse due volte al momento però nel futuro dovrò fare una modifica qua con un cassone mi serviranno qua io ho messo un'altra presa accendi sigari perché qua abbiamo l'originale e quando ho messo un'altra perché almeno c'è sia sinistra che adesso in base all'utilizzo poi come potete vedere dalle lampadine a led sia all'anteriore che al posteriore messi su anche questo un po di tempo fa funzionano tutti led sono tutti accesi non si sono bruciati e anche qua posso dire che per quei pochi soldi che costano fa quello che deve fare alla sera quando si accende tutto sembra che dentro ci sia un'illuminazione proprio tipo ospedale essendo bianco ghiaccio qui come ho già fatto vedere ho fatto il mio portellone che andrò ulteriormente a modificare a breve perché voglio fare un'altra modifica ma al momento è fatto e composto appunto da tre zainetti una sega e un'ascia comodissimo qua dentro c'è varie oggettisti che sempre per boschi eccetera eccetera questo è l'altro dash cam per il posteriore e diciamo che come interni non ho altro da farvi vedere come interni abbiamo ho installato queste questi prodotti quasi qua abbiamo questi ferma cinture con un altro aggancio per le cinture per far sì che rimangano giù perché se no questo mi rimaneva gonfio quindi se questo tipo adesso un po gonfio basta che tirate un po giù questo qua si blocca roba anche questa a pochi euro trovata su amazon diciamo che tutti i prodotti che riesco a trovarvi su amazon ve li linko qua sotto nel video senza dimenticarsi delle protezioni dei fili che questa secondo me è la prima cosa da acquistare per proteggere i fili che sono dietro volanti secondo me è proprio la prima cosa da acquistare procediamo poi all'esterno all'esterno che come prima cosa il portapacchi della uprax che secondo me è il migliore in commercio nulla da dire cioè rispetto a quello da front runner dieci passi avanti non è una parte saldata è tutto un blocco unico quindi non è avvitato né niente tra di loro ciò a queste barri barre per questo lato qua per poi anche di là quindi strutturalmente più importante si può regolare in altezza differenza di quello della front runner che prendete o una o l'altra misura qua tramite dietro questo coperchietto qui ci sono due viti con una staffa dietro che potete alzare abbassare io qua potrei alzarlo ancora di più o abbassarlo praticamente in linea qua posso abbassarlo così e posso dirvi che sono davvero contento di questo portapacchi qua altra cosa che ho installato ovviamente avendolo su su due frettini cinesate da amazon forse pagati 7 8 euro l'uno che quando faccio il punto retro eccetera nel bosco vanno a fare una discreta illuminazione quindi anche qua fanno quello che devono fare non sono i migliori fatti spero di cambiarle a breve perché appunto una dimensione così ma di un marchio di buona qualità fa il doppio della luce che avere quattro di questi poi va bene installato la scheletta di front runner che la più piccola che c'è nel senso a livello di larghezza perché date sono un po troppo larghe non mi piaceva e soprattutto che diciamo il peso va alla alla cerniera e dove si fissa la ruota di scorta dietro ecco non so se si riesce a vedere comunque va bene questa staffa qui ma dietro lì altra comodità poi va bene questo il copriruota della escape gear che anche questo comodissimo ovviamente se lo installate dovete togliere la protezione di plastica per avere un po più di agibilità all'interno qua di sotto ci metto un sacchetto di plastica dove poi avuto dentro le cose o se non è patumiera magari se faccio fuoristrada sporco qualcosa parte lo infilo dentro lì perché tanto questo poi lo smonto lo giro lo butto in lavatrice e via poi passiamo ai prodotti della Austin concept come avete visto nei video di installazione questa è la protezione posteriore che si è comodissima pensavo che toglieva più attacco quelle cose lì ma sinceramente non ci sono problemi poi avendo messo adesso un assetto iron man 5 cm effettivi 4 e mezzo perché l'ho misurati e anche dopo un po però van più che bene che ho installato da ramingo 4x4 comunque la protezione io ve la consiglio è un'ottima protezione è robusta oltre che la traversa qua che sarebbe tipo diciamo gancio traino perché questa attraversa qui sarebbe l'uscita del gancio traino però qua in questo caso non avendo il gancio traino c'è la traversa liscia devo ancora applicare due due ganci qua praticamente si infilano così e qua escono due occhielli per poi agganciare come traino e devo ancora montare come devo montare ancora le luci della targa per far sì che questa targa qua esca in fuori perché così rimane un po' nascosta l'unico problema che potete riscontrare chi ha la retrocamera originale perché dico questo perché la retrocamera originale non si può spostare la retrocamera originale e dentro vediamo se riesco a far vedere in quel foretto lì in quel foro lì c'è la retrocamera originale quindi vuol dire che se voi mettete la targa qua la retrocamera vedrà il buio vedrà il dietro della della targa invece io ho un portatarga con incorporato la retrocamera l'unica cosa che avrò un filo che mi va di tanto così a vuoto perché appunto andrà dal paraurti alla targa che arriverà in linea d'aria dove ci sono le luci quindi questa parte qua verrà la targa però per il resto un ottimo prodotto non cigola sono contento pensavo pensavo peggio nel senso come appoggi eccetera che magari vibrazione lungo andare ma ti posso garantire che è stabile anzi tante volte ci salgo anche sopra con i piedi quando aperto su questa parte qui e va benissimo altro prodotto sempre gusto in concept sono le pedane che non sono scusate pedane sono le copri minigonna originali questo prodotto è una copertura metallica che va sopra le minigonna originali va a coprire la minigonna ovviamente non è che ci potete scivolare sopra come se fosse un rock slide però vi va a proteggere se prendete botte o non fa strappare la minigonna perché tanti ho visto che in fuoristrada si impuntavano così e la minigonna si strappa perché dentro un dei pezzi di plastica però quei pezzi di plastica si rompono e quindi dobbiamo comprare le minigonna nuove e comunque non costa un poco meglio avere una protezione così che è solida non fa strappare nulla qua potete vedere molle ammortizzatori della iron man passiamo all'anteriore questo è il bull bar omologato qua sotto c'è il certificato qua sotto c'è il certificato avrei messo in un altro posto perché qua ho paura sempre di graffiarlo ho già comunque testato l'anteriore qui picchiando rocce cose e lì non fa rumore non si muove fa quello che deve fare quindi sono contento di questo prodotto qua cambia cambia anche la faccia il verricello ovviamente l'ho installato e piccolo perché questo è un 4000 prossimamente monterò un 95 12000 così da farvi vedere un po anche le dimensioni di spazio ma questo sportellino serve oltre che vi posso far vedere quanto spazio abbiamo ancora di lunghezza ma questo serve per sganciare la frizione del verricello nulla nulla di più è bello è nascosto è fatto bene non bisogna tagliare paraurti né niente i buchi qua li avevo fatti io quando avevo l'altra barra led quindi non ho bucato qua si si buca per mettere questa griglia perché la griglia originale di plastica va eliminata ma qua lo potete vedere anche sul video però per quello che deve fare al momento che dovevo installare va bene ho portato vabbè dentro i suoi cavi eccetera eccetera qua ho messo uno stacca batterie semplicissimo qua dovrò fare a breve delle modifiche che voglio un po mettere in ordine cabrage eccetera ma questo è un video che vi porterò più avanti che al momento non ho diciamo il tempo qua vabbè c'ho l'antenna del cb che calamitata quindi quando mi serve la estraggo l'attacco e quando non mi serve la rimetto dentro anche perché le cose clamitate ho sempre paura che qualche personaggio magari la vede in giro vede che cos'è non è cos'è la tocca la tira la taglia fa quindi evitare e sotto lì punto e basta altra cosa che ho montato qui i pistoncini del cofano c'è chi dice che non servono a niente c'è chi invece come me dicono sono comodi perché io apro il cofano basta rimane su non devo usare questa parte qui non devo starmi a preoccupare quando magari devo fare qualche lavoro di toccarlo dentro che mica del cofano in testa costano poco sui 10 12 euro poca spesa e fa quel che deve fare a breve mi arriverà il pannello che parlando con un po di gente concessionari meccanici eccetera mi hanno detto che in origine ci doveva essere con un pannello perché questi fori qua sono appunto fatti per incastrare quel pannello assorbente e man spiegato a cosa serve per chi lo monta non serve per il calore serve solo per il rumore e infatti ci sono dei test su youtube che hanno fatto dei giapponesi con i vari microfoni adesso non so bene che oggi erano ma che fanno vedere la differenza andando a tot giri eccetera eccetera con e senza e si un po toglie il rumore e se posso eliminare un po di rumore sinceramente a me non dispiace e diciamo come cofano c'è poco da farvi vedere questo è un'altra cosa che ho montato sono le frecce led che sono quelle frecce led con posizione integrata quindi quando si accendono le posizioni si accendono le posizioni che qua quando mettete la freccia si spegne la posizione quando ritogliete la freccia ritorna la posizione bianca poi frecce led laterali piccole cose di basso costo e parliamo non sono cose di grande necessità utilità ecco però secondo me certe cose c'è anche un po di estetica non guasta mai altro prodotto che per chi piace fare fuoristrada e che trova un prodotto secondo me sia da parte estetico e funzionale e lo snorkel perché io l'ho sempre amato sia perché rende la macchina diciamo più safari da car per come è fatto è bello è imponente perché è una bella bestia comunque però fa quello che deve fare si monta bene non è comunque è di una buona marca nel senso della marca australiana che praticamente fa quasi tutti gli snorkel prodotto secondario la barra led che ho già fatto vedere anche se seguite su instagram è omologata la barra led quindi zero problemi c'è la posizione che con la riga bianca che vedete può essere di due colori la posizione si collega con le posizioni dell'auto quindi quando si accende le posizioni si accende questa parte questa striscilina bianca lieve non è forte ovviamente potete usarla sia bianca che ambra in base al filo che collegate la barra led c'è poco da dire una buonissima barra led fa la luce che deve fare si vede che non è macinesata dimensioni ridotte una 42 pollici questa e questo marchio qui secondo me al momento è la più bella appunto per il discorso che c'è la posizione che potete inserire qua sotto che non hanno altre quindi anche lì prodotto che a mio avviso molto carino costoso però io viaggio tanto di viaggio tra virgolette nel senso vado tanto di notte a girare l'illuminazione secondo me è importante una cosa che non ne parlo mai questi qua sono i parapalta adesso su aliexpress li trovate se non sbaglio sui 30 o 40 euro kit completo anteriori e posteriori dietro gli originali hanno la scritta gym di bianca questi no e per il resto allora i prodotti ripeto della usten concept sono prodotti che potete installarvi a casa semplici da installare sulle istruzioni fanno quello che devono fare quindi questo caso in anteriore proteggere roba spessa è un prodotto che consiglio se vi piace far fuori strada le piante dei piccoli rami li tiro giù se vi posso dire la verità nel senso di abbatto ci vado sopra infatti come potete vedere qua è già tutta graffiata poi qui avendo i tre fori la staffa in dotazione che vi danno potete mettere questa staffa qua per avvitarci poi una barra led o due fari quel che volete è già in dotazione e protezioni secondo me sono una cosa utile protezione importante è questa qua questa è la protezione per riparare il riduttore riduttore molto debole quindi una un sasso grosso che se ci buttate sopra diciamo che non è proprio una cosa buona poi abbiamo questi che sono le protezioni degli ammortizzatori utili costano poco li trovate su ramingo anche queste sono molto a vista come potete vedere dalle vostre auto e mettere su questi due qua che ci vogliono 10 minuti un quarto d'ora per montarli togliete una vite infilate questi ritorno infilate la vita avvitate il gioco è fatto e avete una buona protezione quindi le protezioni per chi fa fuori strada sono molto comode come comunque para puntoni che come tanti nelle foto che potete vedere hanno slabbrato proprio questo labbro qua io posso dire che le protezioni è una di quelle cose che si costano però meglio spendere 500 ore di protezioni a vita che magari spaccare un riduttore o quant'altro a breve monterò anche quello del serbatoio e altre due protezioni posso dire che al momento sono contento di tutti questi prodotti che ho installato prodotto più prodotto meno utile o meno utile questo va a persona io un po di prodotti installati per esigenza altri perché costavano poco li volevo montare su altri perché come tipo protezioni le volevo io per essere più sicuro per il fuori strada dipende sempre uno da ciò che vuole fare e secondo me la nostra gymni è sempre un bel mezzo bastano piccoli accorgimenti e diventa un'altra macchina ecco più avanti avrò di modo di appunto come tanti mi hanno richiesto dall'altro video che mi dicevano appunto del famoso verricello anteriore che piccolino mi arriverà quello più grosso quindi farò un ulteriore video video upgrade nel senso che vi farò vedere come installare uno più grosso se ci saranno delle modifiche da fare e basta quindi su questo punto di vista quando mi arriverà vi farò il video dedicato altre cose che dovrò dovrò fare che ho già una parte elettrica come vi dicevo prima che voglio sistemare un po il cofano gli interruttori voglio installare una cosa che mi unisce tutto in una cosa sola quindi anche lì più avanti uscirà il video purtroppo in questo momento non ho questo gran tempo e il freddo non è che aiuta tanto a fare questi lavori sinceramente e basta ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi invito a iscrivervi al canale se vi piace il video lasciate un like iscrivetevi al gruppo facebook nuovo suzuki gym in italia e alla pagina instagram nuovo suzuki gym in italia se avete domande scrivetele qua sotto nei commenti e tutti i link dei prodotti tutto ciò che trovo ve li metto qua sotto grazie ancora per aver visto questo video e alla prossima ciao ciao